Buongiorno a tutti, per BenacustiV siamo a Bardolino in località San Pietro. Questa località si trova ai piedi della Rocca. Narga che questo capitello è stato eretto a protezione e benedizione della fonte d'acqua, che una volta approvvigionava le case del circondario. Inoltre, questa fonte non si prosciugava mai neanche nei momenti di estrema siccità. Gli anziani del posto dicevano che erano le lacrime della Madonna a mantenere sempre attiva questa sorgiva. Guardando più attentamente, l'accesso alla fonte è stato chiuso e successivamente riaperto. Ma da chi è stato sigillato e come mai? Se qualcuno avesse notizia in merito, ci contatti su info-benacusti.com Continuate a seguirci per altri misteri e leggende. Ciao!